Aspettando di ufficializzare il nome del nuovo allenatore, l'Acqua e Sapone Unigros si porta avanti con il lavoro e annuncia di aver rinnovato fino al 2022 il contratto con Stefano Mammarella, il portiere più forte della storia del futsal italiano. Il 36enne, portiere di Chieti, difenderà dunque la Porta Nerazzurra anche nelle prossime due stagioni e proseguirà così la sua avventura con il club al quale è legato dall'estate del 2013. Con l'Acqua e Sapone, Mammarella ha conquistato ben sette trofei, tre vittorie della Coppa Italia 2014-2018-2019, due in Supercoppa 2014-2018, una in Winter Cup 2017 e una in campionato con lo storico scudetto del 2018. Sono onorato di continuare la mia carriera con l'Acqua e Sapone Unigros, più che una società, per me è ormai una seconda famiglia, le parole di Mammarella, che nel 2020-2021 giocherà la sua ottava stagione in Nerazzurro. Trovare un accordo con la famiglia Barbarossa, con la Dicola Triano e con i dirigenti è stato facile, è bastata una stretta di mano. Ringrazio tutti per la fiducia e spero di ripagarla sul campo nelle prossime stagioni. Mi sento bene, ho grandi stimoli e voglio continuare a vincere con questa maglia. Sono pronto per le prossime sfide, ha chiuso Mammarella.